Il libro richiedeva un lavoro legato anche al fatto che questa volta Amitav ha inserito la lingua italiana nel libro, non come protagonista ma come coprotagonista. C'erano moltissime parole italiane e per la prima volta in moltissimi anni, 32 come dicevo prima, le parole in corsivo sono le parole italiane. Era un problema anche grafico restituire questo perché il libro è tradotto tutto in italiano ma noi abbiamo deciso di mettere, noi perché io ho tradotto questo libro insieme a Norman Gobetti col quale lavoro già da alcuni anni ai libri di Ghosh e questa volta le parole bengoli e le parole italiane sono in corsivo perché nel frattempo e direi che la cosa straordinaria per me e per noi è stato che Amitav ha letto il libro capitolo per capitolo in italiano per cui la parte più difficile è stata di mandargli capitolo più bello possibile, più limato possibile. Lo leggevamo ossessivamente nel senso che facevamo delle letture ad alta voce per vedere che il suono funzionasse e per mandaglielo diciamo al suo meglio. I suoi commenti erano sempre molto utili. È un'esperienza del tutto nuova lavorare con un autore che capisce bene la tua lingua perché non si tratta solo di leggerla. Io ho lavorato con altri autori che leggono un po' l'italiano ma lui lo parlava non solo, peggio di tutto si è messo pure a scriverlo e allora come voi vedete capisce benissimo per cui lavorare con un autore che capisce bene la tua lingua è una sorpresa, un'avventura, anche un grande privilegio però forse la cosa più difficile è stata questa quindi non un particolare, una parte particolare del libro ma tutto il libro ha avuto questa particolare difficoltà è stata una sfida del tutto nuova. Allora io invece vorrei chiedere ad Amitav che effetto gli ha fatto lavorare su questa volta con un libro che era suo pensato e scritto da lui e vederlo a poco a poco prendere forma in un'altra lingua che non è, lui conosce molte lingue, varie lingue indiane, l'indie, il bangla, l'urdu, ma in una lingua occidentale che non è l'inglese. That's a very interesting point actually, because you're right, my entire experience of the West has been mediated before this, through English and that was for me the real excitement of learning Italian. And I must say that was a...even though I've been coming to Italy for a long time I'm accustomed to hearing Italian but ma learning it in a more formal way was both a challenge and something really it was an adventure I would say because suddenly you discover that there are completely different perspectives on so many things because every language is also to some degree a perspective and it was incredibly exciting and in that way the conversations and back and forth that you and I and Norman had on so many of these issues really I felt enriched the book profoundly